Dichiaro aperta la votazione. Indico aperta la votazione. Dichiaro aperta la votazione. Togliete quei cartelli. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Dichiaro aperta la votazione. Allora. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di giovedì 30 gennaio, ore 13, discussione generale della proposta di legge in materia di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. La seduta è tolta.